bene parliamo ora della pagina applicazioni che ci si arriva dal tab applicazioni bene da qui è possibile selezionare tutte le app da cui vogliamo delle notifiche ovviamente ne ho selezionate tantissime anche per provare tutte le volte che mi avete richiesto qualche caso particolare comunque anche per me stesso perché mi piace essere avvisato da parecchi da parecchie fonti come vedete il calendario ok sul crash facebook gmail and send sms è uno dei tanti diciamo una delle tante app sms che supportano la risposta diretta quindi utilizzo quello ricordate come android mms non supporto la risposta diretta e infatti io per questo utilizzo and send sms instagram messenger orologio telegram twitter whatsapp youtube ok bene chi supporta la risposta diretta and send sms telegram whatsapp sicuramente quelli che supportano la risposta diretta io infatti li ho come vedete come ho anche spiegato una parte relativa alla conferma di natura risposta diretta occorre flegarli anche localmente così che la mia app sappia come trattarli e quindi se deve aspettarsi di avere di dover dare una conferma di lettura o una risposta diretta bene detto questo selezionare un'app è molto semplice per esempio immaginiamo di volere la app mt boost si si schiaccia sul selettore ed ecco qua che compare ok io ora la rimetto di nuovo dove era ecco passiamo la x in alto permette di ripristinare le sole tre app di default cosa che ovviamente adesso nessuna intenzione di fare eccola questa altra qua diciamo rinfresca rilegge di nuovo le app questo è importante fare tutte le volte che installiamo una nuova app dato che io tengo memorizzate e necessita fare questa operazione per rinnovare eventualmente quelle che sono state app aggiornate nuove da poco ecco quando rinfrescate viene messa normalmente vengono messe in ordine alfabetico per il nome quindi per il primo campo se cliccate sul sulla seconda compare o una scatoletta o le quattro le quattro rettangoli i quattro rettangoli rappresentano il nome dell'applicazione quindi come abbiamo fatto adesso questo rappresenta il nome dell'applicazione nome del package il nome del pacchetto che è il secondo nome in questo caso se le riordinate ecco vedete infatti comincia android android vx eccetera eccetera torniamo al nome delle app che è più familiare bene questa più è particolare una novità siccome esistono delle app nascoste per esempio noi aziendalmente ne abbiamo una che ci permette di leggere le nostre mail aziendali e proprio come tale essendo un'app fra virgolette segreta non viene vista del sistema operativo dalla mia app eccetera eccetera e quindi di conseguenza si può comunque diciamo ricevere lo stesso le notifiche si mette un nome a caso e poi di seguito si mette il nome del package qualora si conosca e a questo punto si riesce ad avere le notifiche anche dalle cosiddette app nascoste passiamo alla programmazione di un'app ecco che è una delle feature più potenti che di cui dispone la mia app quindi andando per esempio su whatsapp conosciamo tenendo premuto su whatsapp compare la dialogo di programmazione la prima opzione io in genere la metto cancella praticamente la notifica una volta letta e diciamo che rende rende il sistema più robusto contro le eventuali instabilità e ripetizioni potete la seconda vi permette di aprire l'app a fronte d'arrivo di una notifica qualcuno mi ha chiesto anche questo la terza opzione è da utilizzare solo nel caso che vogliate l'avviso di chiamata su android 9 dato che google ha rimosso i permessi che da una possibilità di leggere il nome del chiamante io utilizzo a questo punto dovete cercare un'app che ma ne parlo questo nel video a1 in dettaglio che è un'app telefonica che sia in grado di intercettare il nome numero del chiamante in questo caso utilizzando questa app si riesce fregandola come app per avviso di chiamata viene utilizzata come tale ecco queste due opzioni sono molto importanti whatsapp è tipicamente un'app che permette una risposta diretta così come la conferma di lettura ha senso anche avercela conferma di lettura potete mettere su qualsiasi app perché ripete solo chiede solo se vogliamo leggere anche il contenuto mentre invece la risposta diretta è abilitabile solo sulle app che la supportano che vi consente perché avete di rispondere vocalmente una feature potentissima viene data la demo di seguito nelle opportuni video e potete provarla e dare un'occhiata bene molto importanti i filtri abbiamo il filtro di esclusione ecco qui ne vediamo un esempio ecco qui per esempio calasanzio è il nome di un gruppo che rompe assai quindi quando io elimino a questo punto già tutte le messaggi che arrivano al gruppo calasanzio io li elimino non passano attraverso la mia app poi i famosi backup in corso eccetera eccetera maiuscolo minuscolo ricordatevi che i filtri di esclusione sono case sensitive quindi se non sapete se dovete usare una maiuscola e una minuscola mettetela entrambe controllo nuovi messaggi in corso messaggio fastidiosissimo ecco quindi oppure anche invio video tutte le volte che inviamo un video in continuazione verremo tartassati da invio video invio video in corso eccetera eccetera bene in questa maniera la prima parte nel sender la seconda parte nel contenuto ecco qui riesco a evitarmi parecchi messaggi fastidiosi nel caso invece vogliate per esempio ricevere soli messaggi che arrivano da un particolare sender o che abbiano un particolare contenuto beh allora usate assolutamente il filtro di inclusione ecco ogni 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 frase ogni parola che deve essere utilizzata deve essere separato da un a capo ok bene ecco beh non importare i vecchi filtri ormai dal 65 spero che nessuno abbia più questa esigenza ecco per programmarlo questa è una cosa potentissima qui potete programmarlo in dettaglio come volete ecco potete scrivere per esempio whatsapp da oppure messaggio da eccetera eccetera ricordatevi vtitle e vobject con le parentesi graffe assolutamente da non rimuovere sono le parti relative al titolo quindi al sender normalmente e all'object del messaggio ecco vedete che qui ci sono altri tasti che vi permettono di mettere altri campi e questi sono particolarmente utili ovviamente nelle altre app questa app è già diciamo preconfigurata molto bene per quanto vi serva ecco esco senza validare e direi a questo punto secondo me vi ho detto più o meno tutte le cose più importanti grazie